cioè capi capi capite perché ragazzi vi ricordo per chi volesse sostenere il canale di iscriversi a questo canale che è gratis un semplice click su iscriviti condividete il link del canale perché siamo alle battute finali i compromessi cercano di difenderlo fino alla fine ci sono dei personaggi vicino all'inter che sono imbarazzanti ormai con le loro dichiarazioni non voglio fare nomi ma sunning tentativo sunning sunning chiamalo a me ti pare questi qui che non conoscevano nessuno in Europa prima che prendessero l'inter per sbloccare trattativa lo scenare più possibile sembra che addirittura sia stato interpellato lo stato della Cina la Cina lo ha fatto condannare i tre paesi lo ha lasciato solo lo ha lasciato solo con l'inter dove lui non ha avuto modo di ripagare il prestito con 3 e voi pensate se lo stato cinese che ha elargito in dieci anni 650 milioni a sunning punto com dove ignoranti ignoranti che vanno in televisione eh che si praticamente descrivono vicini all'inter avevano detto che questi soldi erano per i nerazzurri pensate cosa cazzo gliene frega la Cina dell'inter questo è un presidente arrantolo è uno e non ha mai eh organizzato nulla è un improvvisato e lo state vedendo tutti ormai nelle ultime scorribande vergognose e rispettose verso i tifosi dell' inter che tra un po' stanno per affrontare una festa quindi io però volevo fare visto e poi dopo si subentra nella cattiveria a quelli che pagano l'abbonamento al reverendo per sentirti dire un mese fa pioggia di milioni sull' inter 100 milioni di mercato poi dopo Pinco poi dopo prima Turam Val Milan Inter fascicolo Yuso quattro due diligence americani Beltarelli Lasri vi dovete vergognare voi voi vi dovete vergognare di dare i soldi ad un personaggio del genere voi vi dovreste vergognare di dare i soldi a questa gente io sono cinque mesi e lo dico c'è c'è una stampa compromessa questa è gente compromessa e difendere indifendibile questi non vogliono bene all'inter perché se volessero bene all'inter pur essendo giornalisti direbbero magari entrasse una nuova proprietà così non si può più andare avanti invece no loro sono i primi buffaroli capisci e allora mi hanno lanciato un'idea sulla chat degli sono i dati che tra l'altro ragazzi ve l'ha riposto me l'avete chiesto tante volte chiedo scusa me lo sono scordato eccolo qua il code per entrare in chat facciamo pulizia di questa stampa compromessa non tutta ovviamente ma ci sono i 12 13 personaggi compromessi a nanchino a pechino scusa scanzione al code ho mangiato il gelato c'ho il singhiozzo scanzione al code vieni in chat in questa chat ci puoi stare per sempre come puoi essere buttato fuori dopo cinque minuti quello dipende da come ti comporti io sono schifato lo hanno abbandonato lo hanno fatto condannare in tre paesi per 300 milioni lo stato cinese ha dato 600 milioni per suddick.com e ora per difenderlo fino all'ultimo uno che vuole fare causa all'inter questi qui stanno difendendo uno che vuole fare causa all'inter voi che dicevate di essere interisti nell'anima capito a voi lo chiede lo dico io lui vuole fare causa all'inter perché non ha soldi da dare a dottrina vergogna vergogna il peggior presidente della storia dell'inter vergogna ciao ragazzi ciao ragazzi Grazie.